Perché era un bravissimo mondo. Diciamo che Davide, prima come calciatore ma come uomo, penso sia un esempio per tutti, perché è sempre stato Solare, un ragazzo eccezionale. È una perdita veramente... cioè non ci sono parole. Sicuramente speriamo che nel brutto che possa essere la squadra abbia una sorta di reazione per poterlo ricordare. Un ragazzo di 31 anni, ci sono rimasta malissimo e non ho parole, guarda, proprio non ho parole. Sono vicino alla famiglia, a tutti, alla moglie e soprattutto alla bambina. Io qualsiasi cosa vogliono fare ci sono, perché ero una bravissima persona, bello dentro e fuori, io ti posso dire questo. Per me l'è stato un esempio, ero un vero capitano. Sì, esatto, sono commossa e basta, non ti voglio di più. Sì, come lo saputo, guarda, sono vero mille e due ore che sono qui, però tanto non si risolve nulla. Spero solo che domenica, domenica ci sia un solo stato. Spero solo che domenica, domenica ci sia un solo stato.